covid rimane alto il numero dei nuovi casi 524 in regione 44 a Pesaro al via lunedì le domande per i bonus del comune le istruzioni per richiederli nuovi locali per la farmacia di Soria si attendono i test rapidi la VL si prepara a sfidare Cremona le parole pre match di coach Repeja buona serata a tutti voi benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale oggi è venerdì 30 ottobre e questa stasera vogliamo aprire dandovi subito gli aggiornamenti riguardanti il coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.565 tamponi 1.968 nel percorso nuove diagnosi e 1.597 nel percorso guariti i positivi sono 524 nel percorso nuove diagnosi 44 nella provincia di Pesaro Urbino 71 i soggetti sintomatici sul numero complessivo di nuovi positivi in regione 99 i casi rilevati in setting domestico e 134 i casi stretti di contatti positivi stabile a 8 il numero di pazienti che si trova in terapia intensiva nell'ospedale Marche Nord di Pesaro a cui si aggiungono però i 27 ricoveri nel reparto di subintensiva e i 16 nel reparto di malattie infettive ed ora passiamo alla cronaca e ci spostiamo a Fano perché è terminato con il ritrovamento di un coltello in possesso ad un 15enne il servizio di controllo che la polizia di Fano ha svolto presso la zona del Pincio al fine di prevenire atti di vandalismo spaccio di sostanze stupefacenti liti e risse tra giovani controlli che sono stati effettuati in più occasione dal personale di polizia grazie anche all'ausilio delle videocamere di sorveglianza il giovane trovato in possesso dell'arma è stato denunciato l'autorità giudiziaria minorile mentre altri tre minorenni sprovvissi di mascherine durante la fase di controllo sono stati sanzionati con una multa di 400 euro e adesso un servizio da guardare e ascoltare con molta attenzione perché apriranno lunedì le domande per poter far richiesta dei bonus spesa bambini e quelli destinati alle imprese che è proprio il comune di Pesaro ha stanziato dopo l'arrivo da parte del governo nazionale di un milione per il nostro territorio la scorsa settimana vi abbiamo mostrato la presentazione di questo progetto e oggi in questo servizio vi spieghiamo in maniera pratica come poter effettuare le domande inizierà lunedì 2 novembre e andrà avanti fino a giovedì 12 la raccolta delle domande per i bonus spesa bambini e blocco attività destinate le famiglie pesaresi in difficoltà economica ai bambini e ragazzi fino a 14 anni e l'attività più colpite dall'emergenza covid 19 una misura attivata dall'amministrazione pesarese dopo lo stanziamento di un milione di euro da parte del governo al comune e che si distingue in tre diversi rami il bonus spesa è rivolto a 1.500 famiglie pesaresi in difficoltà l'amministrazione che ha destinato 300.000 euro per tale misura si pone l'obiettivo di consegnare 200 euro a ciascuna di loro in caso di domande in esubero sarà data priorità alle famiglie numerose e a quelle che pagano il canone d'affitto o il mutuo della prima casa possono farne richiesta le famiglie di un componente che hanno percepito nel mese di ottobre 2020 un reddito inferiore agli 800 euro quelle di due componenti con reddito inferiore a mille di tre o quattro componenti con reddito inferiore ai 1200 euro e quelle con cinque o più componenti e reddito inferiore a 1.500 euro il bonus che sarà consegnato sotto forma di buono spesa dal valore di 10 euro ciascuno potrà essere speso in negozi della città per l'acquisto di beni di prima necessità e alimentari alla lista di attività in cui poter usare i voucher sono state aggiunte anche le realtà che effettuano servizio d'asporto e quindi attività di somministrazione cibo e bevande le domande potranno essere compilate sul sito del comune di pesaro i buoni saranno consegnati dal 16 al 22 novembre dai volontari dei quartieri direttamente nelle abitazioni dei beneficiari e saranno spendibili fino al 31 gennaio 2021 il bonus bambini è l'operazione più importante messa in campo dall'amministrazione che ha destinato a tale intervento 600 mila euro si rivolge a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni ciascuno di loro riceverà 100 euro in buoni spesa i voucher con valore di 10 euro potranno essere spesi in bene attività formative utili alla crescita spese di istruzione e formazione come per esempio il pagamento delle quote per nidi scuole dell'infanzia mense materiale didattico libri trasporti computer e altro ancora oppure prodotti per la prima infanzia e tempo libero non potranno fare domanda del bonus le famiglie che hanno percepito un reddito netto superiore a 4000 euro nel mese di ottobre nel caso di numero di domande superiori rispetto alle 6000 previste sarà data priorità ai nuclei familiari con reddito più basso anche in questo caso le domande potranno essere compilate sul sito del comune di pesaro i voucher saranno recapitati dal 16 al 22 novembre nelle case dei beneficiari e potranno essere utilizzati fino al 30 aprile 2021 per agevolare i cittadini che usufruiranno dei bonus spesa e bonus bambini 0 14 anni l'amministrazione ha deciso di stilare due liste delle attività economiche che accetteranno i voucher la prima comprenderà le attività che accetteranno buoni sociali alimentari nella seconda lista invece verranno inseriti negozi che riceveranno i bonus per la crescita gli esergenti che accetteranno bonus spesa e bonus bambini 0 14 anni dovranno comunicare la propria adesione scrivendo la mail spesa.domicilio chiocciolacomune.pesaro.pu.it o chiamando il numero 0721 387 213 entro il 14 novembre gli operatori commerciali una volta ricevuti i voucher dovranno chiedere il rimborso compilando il modello predisposto dall'upicio attività economiche scaricabile sul sito del comune di pesaro e presentandolo entro il mese successivo a quello della spesa effettuata dal cliente al servizio attività economiche di via manzoni le due liste di attività che aderiranno al progetto verranno pubblicate nel sito del comune e saranno aggiornate costantemente. Infine il bonus blocco attività è rivolto alle attività del territorio comunale più colpite dall'emergenza covid-19 sia durante sia dopo il lockdown. Nello specifico si parla di tutte quelle imprese che hanno registrato un calo di fatturato superiore all'80% rispetto al 2019. L'amministrazione ha destinato a questa misura di intervento 100.000 euro ponendoci l'obiettivo di distribuire 1.000 euro a ciascuna ditta. La domanda per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.pesero.chiocciolaemarche.it A parità di requisiti sarà data priorità alle aziende dei settori più colpiti durante e dopo l'emergenza covid-19 e in caso di ulteriore condizione di parità verrà valutata la data di arrivo della domanda al protocollo del comune di Pesaro. E proprio in merito ai voucher nell'ultimo consiglio comunale sono state diverse le voci che si sono dette contrarie alla ripartizione delle risorse destinate ai bonus bambini. Alcuni componenti dei partiti di maggioranza ma soprattutto le forze di opposizione. Ci spiega il perché nella prossima intervista la consigliera comunale di Fratelli d'Italia prima Cepesaro Giulia Marchionni. Il nuovo DPCM è di domenica e quindi lunedì in consiglio comunale abbiamo chiesto alla maggioranza e al sindaco di ritirare il provvedimento e di provare a verificare se era possibile allocare le risorse in maniera differente per dare più risorse alle aziende in difficoltà che chiuderanno i battenti che stanno chiudendo i battenti in queste ore e togliere qualcosa al bonus famiglia perché alla fine il tetto dei 4.000 euro come reddito per famiglia è comunque un tetto elevato. Ci abbiamo provato, il sindaco non ci ha voluto ascoltare e ci dispiace molto perché ora più che mai mettere da parte i colori politici a favore invece di una soluzione per il bene della città poteva essere la soluzione migliore. Come quindi le forze di opposizione avrebbero incanalato queste risorse destinate al bonus? Ma sì, alla fine questo milione di euro poteva essere rimodulato in questa maniera. 300.000 euro rimanevano in carico ai voucher spesa che ora finalmente devono essere spesi nelle aziende, nelle piccole medie imprese locali e quindi non nella grande distribuzione. 100.000 euro andavano inseriti per il bonus famiglie, per i bonus bambini e 600.000 euro ben oltre quindi quello preventivato dall'amministrazione andavano a favore delle imprese che purtroppo si vedono costrette a chiudere. Nel pomeriggio di ieri si è tenuta tramite una videoconferenza una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Pesaurubino Vittorio Lapolla. Il confronto tra prefettura, i vertici delle forze di polizia e delle amministrazioni locali ha sottolineato la massima attenzione da dedicare ad eventuali situazioni di assembramento soprattutto tra giovani che si potrebbero verificare nel fine settimana a causa della ricorrenza di Halloween. Il prefetto invita quindi a rispettare le misure di sicurezza imposte evitando festeggiamenti in luoghi pubblici o privati. Fondamentale sarà l'azione di controllo delle forze di polizia e l'opera di sensibilizzazione svolta da sindaci e dalle autorità scolastiche del territorio. Sono stati presentati questa mattina i nuovi locali della farmacia comunale di Soria. Durante l'incontro è stato anche ricordato il prezioso contributo che le farmacie hanno offerto durante il periodo emergenziale ma soprattutto il servizio che si apprestano a fornire ai cittadini e per il quale si attende il via libera della giunta regionale cioè la possibilità di effettuare i test sierologici rapidi. Si sposta di pochi metri e riqualifica i propri locali la farmacia comunale di Soria da oggi ubicata in via Laurana 1. Un intervento che punta ad offrire servizi più efficienti per cittadini e residenti del quartiere. Come sottolineato dal presidente di Aspes Luca Pieri le farmacie hanno giocato un ruolo fondamentale durante il periodo di emergenza sanitaria e ora si apprestano a svolgere una funzione altrettanto importante con la decisione da parte del governo regionale che a breve dovrebbe essere confermata di effettuare i test sierologici proprio in farmacia. Il ruolo che hanno svolto le farmacie durante l'emergenza e durante il lockdown è stato fondamentale non c'era più un ambulatorio medico aperto i pronto soccorsi non ricevevano più personale più più utenti più pazienti e gli ospedali erano nella situazione in cui erano l'unico luogo in cui il cittadino utente poteva trovare un momento di confronto di conforto rispetto a quello che stava avvenendo era la farmacia sotto il profilo sanitario e il ruolo che i nostri farmacisti io dico quelli delle farmacie comunali ma i farmacisti in generale di tutte le farmacie sul noto territorio è stato fondamentale. All'interno della farmacia ci sono spazi dedicati a quello che potrebbe anche diventare la scelta che dovrebbe fare la regione Marche in queste ore così come già stata fatta in Emilia Romagna gli spazi dedicati al test sierologico rapido che sarà in autoanalisi che quindi si può fare in farmacia. Saranno spazi isolati rispetto al resto con la possibilità di entrare in forma autonoma rispetto agli ingressi normali della farmacia e questa cosa ci ha fatto sì di partire in maniera così veloce perché l'inaugurazione di questi spazi, il trasloco doveva venire entro il mese di novembre ma l'abbiamo anticipato proprio in previsione anche di poter svolgere al servizio di questo quartiere della città un ruolo importante anche nel contrasto dal Covid-19. In Emilia Romagna sta avvenendo i primi sei giorni di test nelle 900 farmacie aderenti a questo servizio sono stati fatti 17.000 test sierologici su questi 17.000 solo il 3% è risultato positivo. Voi capite che se una parte non tutta ma anche se solo il 50% fosse andata presso le strutture ospedalieri pronto soccorsi il rischio era quello di intasare ulteriormente un servizio che già di per sé è saturo. È di oltre un milione la cifra stanziata dall'amministrazione comunale di Pesaro per l'acquisto degli spazi di Palazzo San Domenico che si affacciano su via Giordano Bruno. Un progetto di riqualificazione importante di cui ci parla meglio in questo prossimo servizio l'assessore al bilancio e al patrimonio del comune di Pesaro Riccardo Pozzi. Tra i punti chiave della variazione di bilancio presentata nell'ultimo consiglio comunale risulta esserci il progetto di riqualificazione destinato allo storico edificio San Domenico. Per l'acquisizione della porzione del complesso che affaccio su via Giordano Bruno attualmente di proprietà della fondazione Cassa di Risparmio l'amministrazione ha stanziato oltre un milione di euro. Già di proprietà comunale invece l'area che affaccio su via Branca e che ospita lo storico mercato delle erbe. In questa variazione abbiamo stanziato le risorse per acquisire il Palazzo San Domenico quindi riacquisiremo dalla fondazione di Pesaro la proprietà del San Domenico e questo sarà uno step importante per iniziare poi un lavoro di ripensamento e riprogettazione di questo palazzo importante nel centro storico di Pesaro dietro Piazza del Popolo che si affaccia su una via, una via Giordano Bruno che in questi anni ha subito un pochino quella che era le difficoltà di questa zona a cui ridaremo vita. Sarà un'opportunità, sarà un luogo che potrà rivivere dalla mattina alla sera quindi un luogo nella quale si potrà mantenere anche un'impostazione simile a quella che è oggi durante la giornata quindi valorizzando i prodotti tipici locali o comunque quelli che sono i prodotti del nostro territorio e che la sera in particolare a pezzetta di le erbe potrebbe diventare un luogo veramente di attrazione per i giovani dall'ora dell'aperitivo fino al dopocena sperando di poter tornare presto a una normalità che questo lo consenta. Però nonostante le difficoltà in cui stiamo vivendo sicuramente è importante cercare di avere anche un occhio all'orizzonte un pochino più lontano e su questo avere la piena proprietà ci consente di intercettare quei bandi da recovery found ad altre possibilità per riconsegnare questo spazio alla città. Per i piani alti della struttura si è parlato anche dell'ipotesi di instaurare delle sale del museo? Sì, quella è una delle possibilità. Poi c'è stata anche un'interlocuzione con inizialmente l'università in un'ottica di ampliamento di quelli che sono i corsi oggi offerti da parte dell'università, il Politecnico e le Marche, ma anche eventualmente dall'Università di Urbino con cui anche l'assessore Franco Luce sta facendo un lavoro importante e in realtà saranno spazi che potranno essere funzionali sia a museo oppure anche ad uffici proprio nel proseguo di un'operazione che è quella di fitti zero, cioè di portare tutti gli uffici comunali in edifici che sono e saranno di proprietà del Comune in modo tale da ridurre quelli che sono i fitti passivi dell'INTA. Questa fase qua è importante per iniziare un percorso e speriamo di portarlo avanti nel più breve tempo possibile. Si chiama InfoCovid, lo sportello informativo e di supporto per i cittadini del Comune di Pesaro, promosso da AGE Genitori di Pesaro in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e patrocinato dall'Assessorato alla Protezione Civile di Pesaro. Ci si potrà rivolgere allo sportello InfoCovid in Via Lombardia 2 per ricevere informazioni sui comportamenti da tenere e sulle norme da seguire. Il servizio InfoCovid è aperto al pubblico il mercoledì e giovedì dalle ore 17.30 alle 19, il venerdì dalle ore 9.30 alle 11.00. Le informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al numero 0721 38 76 16 oppure inviando una mail all'indirizzo che vedete in sovrimpressione. Cambio di guardia alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Pesaro. Il Maggiore Patrizia Gentili lascia il proprio incarico per un nuovo incarico a Roma e al suo posto arriva dal ROS di Palermo il Maggiore Guerrino Roberto Spina. Il Sindaco di Vallefoglia, Palmiru Chielli, ha segnalato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e all'Assessore Mirko Carloni, Vicepresidente della Regione Marche, la pericolosa presenza di lupi avvistati sulle colline del territorio e in prossimità di centri abitati. Una situazione che sta creando forte preoccupazione tra allevatori, titolari di aziende agricole ma anche cittadini. Chielli invita quindi Stato e Regioni ad attivare al più presto le misure più opportune per garantire la sicurezza dei residenti di Vallefoglia. Dopo la consegna delle borracce agli istituti scolastici di Fermignano, ieri l'azienda Midor ha presentato il nuovo calendario. Le nostre telecamere erano presenti e vi racconteranno questo momento con uno speciale televisivo che potrete seguire in prima serata martedì prossimo alle 21.15. Nel frattempo però vi mostriamo un estratto con due interviste, la prima al responsabile comunicazione Midor Ivan Calandra e la seconda al socio fondatore dell'azienda Maurizio Dini. A distanza di un mese, perché un mese? Perché il 29 settembre avevamo presentato alla scuola media, omaggiato alla scuola media di Fermignano le borracce, le borracce in alluminio. Adesso il 29 l'abbiamo fatto anche apposta con il sindaco, ci siamo messi d'accordo, facciamolo il 29 così è carino, a distanza di un mese. Presentiamo il calendario 2021 Midor che è stato in cantiere da giugno. Questo calendario che noi omaggeremo a tutti i nostri clienti diretti e indiretti e omaggeremo a tutti coloro che verranno a fare acquisti sul nostro punto vendita in via Metauro a Fermignano e a tutti coloro che acquisteranno online sul nostro sito un calendario o da tavolo o da muro. Verrà prodotto in 15.000 copie in formato da tavolo e 15.000 copie in formato da muro. Perché siamo partiti da Fermignano? Perché volevamo dare una visibilità al nostro territorio anche perché l'azienda ci tiene a valorizzare il territorio e l'azienda produce da 38 anni sul territorio, in special modo a Fermignano. Quindi siamo partiti dalla città di Fermignano. Ci siamo trovati inaspettatamente questa pressione, questa responsabilità territoriale. Questa responsabilità territoriale perché in questo periodo di improvviso essere invisibile che ha colpito tutto il mondo, nessuno è mai riuscito a fare così tanti danni come questo virus e di conseguenza noi che facciamo igiene siamo stati direttamente coinvolti. Allora abbiamo cercato di risettare velocemente e fare una scaletta delle priorità. Tra le priorità abbiamo visto che alla gente non mancavano gli igienizzanti ma in particolar modo mancava proprio una vera guida, una vera indicazione di ciò che conta per contrastare al meglio possibile questo virus. E quindi ci siamo adoperati subito per fare informazione sul territorio e ovviamente anche dei prodotti mirati. C'è stato un periodo che non si trovavano le materie prime e quindi noi abbiamo subito dato come linea guida delle alternative che bene o male erano tutte trovabili e che avevamo anche facilmente in casa. Informando la gente che è fondamentale, è indispensabile lavarsi le mani con dei prodotti alcolici come ci viene richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o l'Istituto Superiore della Sanità. Due grandi aziende caseare del nostro territorio, entrambe con il marchio DOP, uniscono le forze con un'unica campagna promozionale, la casciotta di Urbino e il formaggio di fossa di Sogliano. Vediamo tutto in questo servizio di Simone Celli. Oltre la forma, la sostanza. Con in testa soprattutto una cosa, la qualità. Ecco cosa accomuna a due grandi formaggi del nostro territorio, la casciotta di Urbino e il formaggio di fossa di Sogliano. Due importanti prodotti caseari, entrambi con il marchio DOP che Trevalli Copperlat intende valorizzare attraverso un'apposita iniziativa. Nome in codice doppiamente eccellenti, perché doppia è la garanzia data al consumatore, vale a dire bontà e, appunto, qualità. Quella messa in campo è una vera e propria campagna multimediale, con tanto di affissioni mobili, appuntamenti radiofonici e iniziative sul web. Questa campagna, oltre a voler promuovere questi prodotti, in questo periodo per esempio c'è la sfossatura, quindi l'uscita del formaggio di fossa dalle fosse, serve pure per dimostrare che si possono fare sinergie tra i due prodotti e quindi ottenere una maggiore incidenza sul consumatore finale. Sono prodotti che vengono fatti nel territorio della provincia del Pesaro Urbino per quanto riguarda la casciotta d'Urbino e nelle zone dalle Romagna, dal sotto Bologna fino ad Ascoli Piceno per quanto riguarda il formaggio di fossa. Questa fare sinergie e quindi vuol dire anche ottenere migliori risultati. Quello che ci siamo proposti è quello di coinvolgere, visto che la casciotta di Urbino ha già un suo consorzio di tutela che permette di controllare il prodotto anche nella fase di commercializzazione e di promuoverlo al consumatore finale, è quello di coinvolgere i produttori, gli altri produttori di formaggio di fossa e le istituzioni per costituire un consorzio di tutela anche per questo prodotto. Perché l'importanza di questi due prodotti? Prima di tutto perché si ottengono da latte prodotto della provincia del Pesaro Urbino o in quell'altro caso nella più vasta zona delle Marche della Romagna, da allevamenti che presidono il territorio. Sono allevamenti che sono principalmente presenti nella zona dell'alta collina montagna dell'Appennino Marchigiano e quindi allevatori che presidono il territorio. Nel caso della casciotta di Urbino abbiamo un misto pecora, quindi il 70% di latte ovino e il 30% di latte bovino, con una stagionatura breve, 15 giorni e già è sulla tavola del consumatore. Mentre il formaggio di fossa può essere fatto con latte vaccino, latte di pecora o misto ed è un formaggio che sta 150 giorni in stagionatura. Come ho detto un particolare affinamento viene fatto nelle fosse che è un sistema tradizionale riscoperto nel tempo. Ed ora apriamo la consueta pagina sportiva e in modo particolare parliamo di basket. Tra insieme a Canestro questo format dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che andrà in onda, va in onda tutti i giovedì in prima serata. Intanto però potete vedere la replica della prima puntata domani alle 16.15 ma anche alle 22.00. Mentre tornando appunto alla Carpegna Prosciutto Basket, Jasmine Repej ha presentato il match che i Biancorossi disputeranno domenica alla Vitrifrigo Arena contro il Cremona. L'analisi di coach Repej è partita proprio dalla squadra avversaria. Come sentiamo in questa intervista realizzata per noi da Marco Cadeddu. Una squadra veramente fatta bene. In corsa è una squadra con una chimica giusta tra italiani americani. Una squadra che gioca bel basket già durante la Supercoppa, inizio del campionato. Vittoria contro Bologna a Bologna è veramente una bella vittoria. Uguale partita contro Trento. Abbiamo visto l'ultimo sabato dove sono stati inizio secondo tempo più 19. Alla fine l'ha perso ma meritavano vincerla. Una squadra che gioca molto semplice, un buon basket e una squadra che ha il sistema di gioco adattato prima di tutto per caratteristiche individuali ai loro giocatori. La vittoria di Roma ha fatto fare un passo avanti dal punto di vista anche psicologico. Una squadra che ha gestito molto bene i momenti decisivi, coach. Sì, una vittoria per noi straimportante. Ogni vittoria per noi è straimportante perché sappiamo che arriviamo da un periodo dove non si è vinto tanto e per questo ogni vittoria per riprendere Finducia, per andare avanti, per essere più competitivi ci fa bene. Speriamo uguale a domenica riusciremo a vincere di nuovo e sarebbe veramente molto importante per nostra squadra. Coach Filippovici si è allenato poco e anche Delfino non è al massimo della condizione. Sì, uguale a Henry. Drell arriva da una sosta più lunga e Filippovici non si è allenato oggi. Vediamo cosa succede. Riuscirà domani, riuscirà a giocare dopo domani. Allo stesso tempo Carlos non si è recuperato al pieno ma sicuro sarà in roster per aiutare queste ragazze più giovani. E continuiamo a parlare di sport, adesso in modo particolare di calcio a 5 perché dopo l'atteso sorteggio degli accoppiamenti del preliminary round di Champions League, l'Ital Service Pesaro sarà pronta a sfidare i Montenegrini del Tito Grad. La partita si svolgerà fra il 24 e il 29 novembre. Il giorno esatto è ancora da stabilire. La competizione si giocherà in Montenegro e Lorenzo Pizza, presidente dell'Ital Service, si è detto pronto a portare successivamente insieme alla sua squadra la Champions nelle Marche con le dovute precauzioni anti-Covid. In attesa della Champions League non perdetevi il match che Rossini TV trasmetterà in diretta domani, sabato, alle ore 18 e che vedrà i Biancorossi in trasferta ad Olbia per sfidare il Todis. E allora abbiamo finito qui con le notizie per quanto riguarda la giornata di oggi. Vi ricordo l'appuntamento della prima serata alle 21 e 15 vi faremo rivedere due puntate dei luoghi della bellezza. La prima dedicata ai musei della città di Pesaro e la seconda invece dedicata alla bellissima casa di Rossini. E poi la rassegna stampa domani, domani sabato torna la rassegna stampa in diretta alle 7 e 20 e poi nei vari orari replica, vi ricordo infatti quelli che sono gli orari della rassegna stampa alle 8 e 30 la replica, poi un'altra replica alle 9 e 30, alle 12 e 30, alle 14 e alle 18 e 30. Se volete vedere la rassegna in diretta invece vi dovete collegare su Facebook o su Rossini TV alle 7 e 20. E poi domani ripetiamo, domani sabato 31 ottobre alle ore 18 in diretta ci sarà su Rossini TV questa partita Todis Lido di Ostia contro Ital Service Pesaro. Grazie per essere stati con noi anche questa sera, mi raccomando segnalateci sempre le cose che non vanno nel vostro territorio usando questo numero di Whatsapp oppure potete anche chiamarci in redazione o mandarci una mail. Visitate anche il nostro sito per trovare tutti i contatti e per rivedere la nostra programmazione www.rossinitv.it. Buona serata.